Musica Buongiorno, qui da Lissi di Gorizia, Gruppo Oro, stiamo intervistando l'area numero 6. Allora, abbiamo costruito un monopattino interamente ecologico alimentato a corrente elettrica, abbiamo costruito un telaio dal nulla saldando dei tubi in ferro, il motore l'abbiamo ricavato da una volgifiocco ed è alimentato da una batteria da 12 volt, il tutto collegato tramite delle pullegge. Come lo avete assemblato? In quanto tempo? Siamo stati più o meno due mesi a farlo, abbiamo cominciato dal telaio, cominciando a saldarlo pezzo per pezzo, abbiamo fatto il vano per la batteria sottostante e i supporti del motore, poi abbiamo modificato il manubrio che era rotto e abbiamo messo le ruote e le abbiamo montate. Dove avete trovato i pezzi? Avevo un monopattino vecchio già smontato, che era tutto a pezzi, abbiamo recuperato solo le ruote da quello, dopo abbiamo preso la batteria nuova e il motorino in un negozio, perciò abbiamo recuperato solo le ruote. Qui dal monopattico elettrico ecologico, Gruppo Oro 6, ciao a tutti. Ciao a tutti, anche ciao a Isis Corner. Ciao a tutti e buon seguimento. Saluti. Saluti.